da fuori, io personalmente da quando sono arrivato qua mi sono sempre allenato in maniera costante e dura in allenamento poi si sa, le partite hanno storie a sé, tutte quante, magari in qualcuna sono venuto meno, in qualcuna sono venuto in più però ripeto, il lavoro che sto facendo in allenamento è sempre costante e duro oggi sono contento, bisognava dare continuità al pareggio che avevamo fatto a Reggio, un pareggio importante purtroppo si sa, le grandi squadre con grandi giocatori alla fine le giocate le trovano non me l'aspettavo, non me l'aspettavo, però ripeto, quando hai giocatori importanti in squadra le giocate ogni tanto escono io devo fare una domanda, tu Enzo, di entrambi le elezioni, cosa è cambiato da 920 a Marra? Sicuramente il mister Marra con il direttore sportivo Castaglione hanno portato sicurezza, hanno portato serenità che forse mancava in questo gruppo, un paio di settimane a sta parte il mister e il direttore sono venuti qua con grande entusiasmo, sapendo la situazione un pochettino così e così sono venuti qua con grande entusiasmo, come ho detto, ci hanno portato molta sicurezza e molta fiducia nei nostri mezzi Abbiamo provato la difesa a tre e pure a Reggio, quindi i risultati non sono andati male poi con il mister proviamo tante cose in settimana, poi decidiamo sempre il sabato in base alla squadra che andiamo ad affrontare